Ciao AIA! Eccoci con Head for Speed Rivals! Vediamo appunto di procedere con le missioni che ci vengono proposte. Stavolto voglia di fare una bella gara. Enforcer, ottieni impatti laterali con 10 fuggitivi. Impatti laterali. Quindi qua ci vuole una bella macchina. Enforced. Vediamo cosa ci viene dato a disposizione. Undercover Enforcer. Eccola qui. Solo che come velocità è abbastanza bassa, la velocità massima è 3,7. 3,7, 6,2, 6,4. 3,7, 6,2, 6,4. 3,7, 6,2, 3,4. Mi serve accelerazione. È troppo importante l'accelerazione. Su. Proviamo con questa. Black Series. Ok, come gadget. Ah però ero convinto che i gadget me li passasse da una macchina all'altra. Oh, cavolo. Quindi qua è facile mettere un... Un attimale mettere un... Aria. Ariete. No dai, per ora voglio provare direttamente così. Eventualmente siamo pronti poi... A rientrare... A rientrare... In una postazione di comando... E raggiornare la vettura. Quindi 10 impatti laterali. 10 impatti laterali. Classe C. All'opera. Ecco già uno a livello 1... Da andare ad agguantare. Spettacolo questo... Per appone. Come mai si fermato? Ho spaviatto. Vai, 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 vai. Bello, vai, 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 vai. I più dati a unità di supporto. Bello. Centrale ha un individuato il sorpetto. Riprende la caccia. Vieni qui che voglia di farti male. Vieni qui. Vieni qui per livello 1. Vieni qui. Fatte laterali 2. 4, 5, 6, 7. 7, 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 7. Potrei farti del male. 8. Per questo credo che sia il tuo colpo di grazia. 9. Dove vai, bello? E il decimo, mamma mia! Com'era stato brutto se ti avessi beccato. Vubù? Vubù? Ti ho preso, vubù? Ti ho preso, vubù? Entra in un posto di comando. Cioè, ma scusa. Me l'avevo fatto fuori. Ecco cosa vuol dire starnutire durante una gara. A tutte le unità dovete fermare il sospetto in fretta. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 6. Ho fatto alquanto male. Allora. Vediamo un bel posto di comando. Dove si trova? Posto di comando più vicino. E vai con l'osso. speed zone avviata no se l'avessi preso mi faceva male ti avrei fatto veramente male tipo adesso tipo mio seguilo tu ora gli scarico tutto il nostro addosso uuuu mosso 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 vabbè qua ho sbagliato io qui ho decisamente sbagliato la manovra uuuu non è perso di vista non è perso di vista non è affatto perso di vista che altro mi ha fregato di brutto questo mi ha fregato di brutto questo attenzione un'unità è all'inseguimento di brutto 1044 agente in zona intervenite arresto completato questo lo ralleggerà eccellente a tutte le unità inseguimento terminato allora adesso si va al punto di controllo al punto di controllo al punto di controllo urla peppa non avevo visto il dosso ti ha fatto un po' male non l'avere potuto prendere con un bel frontale ma dov'è il punto di controllo controllo eccolo qui posto di comando abbiamo fatto un bel po' di punti grado aumentato vediamo la nuova auto una bella bmw qual è la serie 3 ah però che bella macchinina e siamo al capitolo 3 forza eccessiva in cura presso l'ospedale di redview county le gare clandestine a redview county hanno sempre causato danni ingenti ma per la prima volta hanno davvero superato il limite la terza legge di newton dice che a ogni azione segue una reazione uguale e contraria e alla forza eccessiva è necessario rispondere e alla forza letale si deve rispondere di conseguenza i fuggitivi i fuggitivi hanno dimostrato di essere disposti a tutto pur di demolire la società dobbiamo essere pronti a fare lo stesso per proteggerla i nemici sappiano che sono loro a essere in pericolo scopriremo cosa è successo veramente bella storia bella storia bella storia ragazzi quindi non mi resta che salutarvi ci vediamo al prossimo video saluto a tutti voi da mister pupu ciao a tutti baby salute